ciao benvenuti nel mio canale youtube io sono kirk e questo è il secondo episodio di questo gioco spell force 3 abbiamo visto nel primo episodio il tutorial praticamente di come funziona il gioco adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo fare allora il caporale parla col bertrand dobbiamo parlare con bertrand vedete qui sotto ci spostiamo avviciniamoci un po parliamo con bertrand allora allora non era il sogno sul suo allenamento qui ci sono un po di domande da fare questo è il personaggio che abbiamo creato ieri episodio precedente ma la purezza mi fa dubitare delle mie decisioni vabbè anche io pratico la magia proviamo andiamo un po veloci così ok caporale tarro che succede mi devo vestire allora hai trovato un bottino premi f5 per accedere alla schermata dell'inventario dove è possibile equipaggiare gli oggetti trovati ok apriamo f5 ok cosa che mi posso mettere combattimento danni io qui non vedo niente per potermi vestire qui sono le armi le domande e qui questo ok ok ecco qui dovevo cliccare qua selezioniamo il nostro personaggio bottino prendiamo tutto indossare l'equipaggiamento prima di partire ok chiudiamo qua perchè sennò posso armature media armatura pesante della guardia del lupo facciamo una ok dove la mettiamo qua questo cos'è talismano della vitalità non so questo forse va qui no non va dove va il talismano qua sotto neanche allora ci siamo messi il vestito dobbiamo mettere la spada lo scudo ok il casco non c'è l'elmo non ne abbiamo questo cosa sarà mai ok talismano della seconda occasione anelli non ne ho questo non so se può essere messo come anello no può essere messo come talismano? si pozioni adesso ci sono sono già lì vestiti penso di aver messo tutto quello che si può mettere qua ok fai rapporto al lord marshal o anger ok devo uscire dagli alloggi devo andare giù di qua andiamo di qui e poi andiamo in giù vedete sotto qui nel riquadro a sinistra fa vedere dove dovete andare ok giriamo devo fare rapporto ma non lo vedo ah ho perso un eroido cavolo l'ho lasciato eh eccolo qua l'ho perso qua ecco qui era solo lui o c'è qualcun altro? ok ok selezioniamo tutte e due e andiamo abbandona ah finalmente qualche acqua fresca vieni Tahar questa chi è? questa chi è? ehm è abbastanza la vista, non è? solo non è vecchio è ancora difficile è ancora difficile credere che qualche mili anni fa qualcuno ha realizzato questo posto sì assolutamente ok di qua non possiamo andare quindi dovremmo andare da qualche altra parte vediamo dove possiamo andare e qui possiamo recuperare qualcosa qua prendiamo la macete ok scendiamo qua vediamo avanti vediamo avanti Vediamo 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 dio Ok, continuiamo Ok, continuiamo Ok, continuiamo Ok, continuiamo Ok, continuiamo Ok, continuiamo Ok, ho trovato un mercante Vediamo come sfruttarlo Vedo che sia questo il mercante Vediamo un po' Ok, posso comprare gli oggetti qua Dal mercante Non so cosa comprare Il primo momento io direi di non comprare niente Adesso non compriamo niente Andiamo avanti Andiamo a trovare il nostro Lord Marshalo Angar da qualche parte qui Dovremmo essere vicini ormai Credo che sia qua Abbiamo vagato un po' per la fortezza Finalmente siamo riusciti a trovare Per fare rapporto al Lord Marshalo Abbandona E selezioniamo i nostri personaggi Sennò non si muovono da qua Sennò non si muovono da qua Sennò non si muovono da qua qui c'è qualcosa da prendere magari lo prendiamo ok prendiamo tutto libro e foglia hai trovato un oggetto che può essere letto per vederne i contenuti premium f5 per accedere all'inventario puoi cliccare sull'oggetto con tasto destro della mouse ok adesso non ci interessa io voglio andare da sto signore qua adesso andate a finire i miei personaggi me li sono persi eccoli qua vediamo se riusciamo ad arrivare a parlare con loro oh non è sicuro di quello che vuoi dire signore Quindi, l'integgiamento di sicurezza per un cambiamento. È riuscita. Il sangue è una spaggia. La prima volta che abbiamo ascoltato, era circa tre mesi. Per quasi una volta di un'alchimista, ogni capabile alchimista di Greyfell e Everlight ha cercato una cura. E ci sono rumori che gli Elves, gli Dwarves e anche gli Greenskins sono anche affacciati da questo. Il problema è che siamo niente da una soluzione, e recentemente c'è stata una grande scuola in un villaggio vicino di Greyfell, Leonon. E mi è vero di assicurare che questo sangue è vero? Certo. È per sempre la più vera che l'Eeo ha visto dopo il Red Fever. In realtà, è corruzione la sangue di un'alchimista, quindi il nome. Inizia con un sangue l'alchimista e qualche nausea. Non conosciamo cosa causata, e in questo modo, nessun medici ha mostrato per aiutare. Quando i primi sintomi mostrano, il sangue formi blisters, che eventualmente si riuscano. E poi, il sangue è vero che il sangue, e poi il sangue fa, e poi è successo. Tiara's breath. Inizia. Vedo. Cosa cosa causa? Beh, è la cosa, non lo sappiamo. Alcune cose sembra che sia contagioso, mentre alcuni alchimisti credono che l'infecciazione succederebbe... At random. Well, not entirely. Apparently there's a pattern. But it seems almost too ridiculous to say... The infected we've talked to, many of them have reported hearing... I don't know how to put it. Noises? Yes. Some of them even said it sounded like a voice. Superstitious nonsense, of course. A curse. That is what you're suggesting? A curse? No. If anything, I think it might be some kind of magical anomaly. However, you're not here to muse about the courses of the plague. We have... We have to find a way to contain the outbreak in that village, Leonon. If the infections reach Greyfell, we'll... Thus, we, together with a small division of Nortander soldiers, will travel to Leonon and assess the situation. I understand. But if there's no... We'll see when we get there. What's my role in this? What kind of question is that? You're a member of the Wolfguard, and this is a royal mission. End of story. If the Bloodburn is deadly, how do we protect ourselves when we go into contamin... Again, we haven't understood the Bloodburn's distribution pattern yet. So there's a chance it'll not affect you anyway. But to make sure... Supposed to protect? Well, it did work for our scouts. We'll simply... Understood. When do we set out? Tomorrow at first light. Just get your things and your potion from the alchemist downstairs. His name is Albertus de Rames. Then meet me at the... Anything else, Lord Marshal Aaron did... No, just solve... We'll... Ok, dobbiamo praticamente scoprire il motivo di questa malattia che si sta diffondendo. In questo momento dobbiamo andare prima a recuperare una pozione per non ammalarci noi, diciamo. Vediamo dove devo andare, dove devo uscire fuori da qui. Selezioniamo sempre i nostri personaggi. Vedete, procurati delle pozioni di resistenza. Vai alla torre grigia. Vediamo la torre grigia. Adesso dovrò tornare indietro fino a qui. Ok, dov'è la torre grigia? Qui c'è il punto di domanda, dovrebbe essere qua vicino. Allora, selezioniamo sempre i nostri personaggi. Credo che sia qua. Bottino, prendi tutto. Ok, questo non è la torre grigia comunque. Ora torniamo, vediamo un po' sarà qui da qualche parte. Dovevo uscire fuori anche da qui, credo. Facciamo arrivare fino a qua, va. Ok. Facciamo arrivare fino a qui, vediamo un po' sarà qui, vediamo un po' sarà qui. Non so con chi devo parlare. Ah, è qua forse. Pozione grigia io non ne vedo, prendi tutto. Ah, ecco, devo parlare con lui. L'alchimista. Ok, abbiamo recuperato la pozione, adesso allora possiamo uscire da qui. Devo arrivare qua io sicuramente. Selezioniamo qua. Ok, allora lasciamo la fortezza grigia verso Lion. Non dobbiamo uscire dalla fauna, dobbiamo andare qua. Quindi cominciamo ad avvicinarci qui da qualche parte, se no andiamo qua magari un posto un po'. Qui non si può. Vediamo la strada più corta quale sarà, sarà qui. Selezioniamo sempre i nostri eroi. Proviamo ad arrivare fino a qua, almeno siamo alla porta. La strada più corta. Ok, proseguiamo di qui. Dobbiamo incontrare sentenza. Andiamo avanti di qua. Vabbè, eccolo qua, il nostro sentenza. Andiamo a parlare anche con lui. Ok, andiamoci. Ok, ce l'abbiamo fatta. Praticamente è un altro tutorial, anche questo. Vediamo se adesso riusciamo a combattere un po'. Ok, dobbiamo andare a Lion, selezioniamo Lion. Viaggia. Devo selezionare gli eroi, allora questo? No, sì. Questo no. Beh, c'ho solo questi, quindi viaggia. Ok, siamo arrivati a Lion, come si chiama. Vediamo cosa dobbiamo fare, proseguiamo nell'esplorazione. Dobbiamo ritirare la ricompensa, che è questa. Seleziona un oggetto, questo mi piace. Ok. Allora, la fonte del morbo dobbiamo trovare a Lion. Lion, come si dice qua. Qui vediamo un po'. Proseguiamo di qua. Qui ci sono già dei malati, forse. Prendiamo il bottino. Allora, proseguiamo sempre dritti, direi. Andiamo avanti. Qui dove andiamo? A destra andiamo dritti, eh. Qui ci sono... Eh, qui dobbiamo attaccare. Ci sono scarafaggi giganti, blu. Ma ci sono anche i piccolini. Facciamo fuori prima i piccolini. Ah, è questa qua grande, fa i piccolini. Quindi andiamo a distruggere quella grande. Raghi è quasi morta. Forza, su. Scarafaggio blu. Non muore? Oh, facciamo fuori gli altri. Piccolini. Vedete, le squadre combattono in automatico senza che non faccia niente. forza, forza, forza. Forza, forza. Ok, abbiamo sconfitti. Qui ci sono dei premi. C'è una cassetta d'arancia, sembra. Ok, qui. Ok, abbiamo preso tutto. Allora, ci vedete che non ci serve. Andiamo a vedere qua. Dov'è dato quello là? Bottino, prendiamo tutto. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Io direi di continuare magari di qua. Sono convinto. Forse è meglio andare di qua. Magari devo fare tutto il giro. Facciamo tutto il giro per trovare la causa di questo morbo che attanaglia la città, diciamo. Ma cos'è? Ha elfi. Sono elfi. E quindi? Salengar. Chi sei? E che, per l'Elin, ti faccio? Sentenza Noria, generale del Wolfgarde. E saranno i nostri chiedendo le domande. Questo è territorio nord-hander. Wolf? E così dobbiamo. Orders. Ok, andiamo avanti. Qui c'è il ritrovo. Non ci serve niente. Qui ci sono delle strutture. Dovremmo quasi esserci all'arrivo. Vediamo, eccolo qua. Il Wolfgarde. Ha. Questo sarà interessante. Che ti faccio qui? Questo è territorio nord-hander. è territorio nord-hander. È, e ci siamo capire di questo. Ma sono sicuro che recenti sviluppi hanno fatto la nostra presenza necessaria. Spare me la verbiage. Qual è il significato di questo? Come potete sapere, questa città è stata trattata da l'arrivo. Sì. 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 Ok, dobbiamo tornare indietro Non ci vogliono qua Vedete, gli elfi diventeranno stili fra 4 minuti e 32 Torna al tuo avamposto Quindi probabilmente dovrò creare la mia squadra per difendermi Vediamo se tornano, devo arrivare qui Se si muovono Prima che ci attacchino diciamo Ok, dov'è che devo andare? Ok Qual è il tuo nome? Seamark, Sir, Gerald Seamark. E tu crescivi qui, certo? Sì, è vero, Sir. Bene, allora sai l'area. Ti assisti a Tahar quando lo necessita. Ora, cominciamo. Se questi dammi più qui vogliono l'acqua, lo dovranno avere. Ok, quindi dobbiamo creare capanne di caccia. Sono a livello 1. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Gestione base, il tuo capitale è il cuore della tua base. Quando ne perdi il controllo, perdi la partita. Premi per rendere visibile la situazione economica. Ok. Vediamo cosa posso costruire. Ok, cominciamo a costruire questo, no? Forse non posso. Ah, devo selezionare questi omini qui? Cosa devo fargli fare? Aspettate. Dove si deve? Ok. Tu ci dai una mano come iniziale, perché sennò... Ok. Sennò sicuro di trasportare alcuni dei nostri uomini per trasportare i risultati, anche se tutti si è assignati a un lavoro specifico, non c'è nessuno per fare questo. Sennò che prendo questo in mente, grazie. Ok, dobbiamo capanno di caccia bloccato, accumulo a cibo. Io devo costruire ovviamente queste strutture. Come faccio a costruirle? Ok. Dove è andata a finire questa? Forza uomini, costruiamo. Ok, forse ce la facciamo. Allora, capanno per la legna, lo mettiamo qua. Poi, progetto capanno per il capanno da caccia, lo mettiamo sempre lì vicino, così almeno... Questa con la riga rossa cosa vuol dire che non posso? Qua. Allora, capanno da caccia, questo no, questo no, questo no, questo no. Per adesso posso costruire solo questi. Costruisci un capanno che l'ho fatto. Adesso cosa devo fargli fare? E' fatto anche questo, li ho fatti tutti e due. Vediamo se posso costruire qualcos'altro. Capanno per la legna, capanno di caccia. Cos'è che gli ho messo sopra qua? E' me. Ok. Non so se devo continuare a costruire capanne di caccia o... Ah, chiediamo a lui cosa devo fare, va? No. Makes sense. Ok. quindi espandiamoci quindi andiamo qua dietro magari ho visto che si può andare qui posso fare questo sono finiti i miei eroi eccoli qua non so se devo andare io per forza con gli eroi o posso farlo senza gli eroi capanno per la legna, capanno di caccia aspettiamo che arrivino l'ero allora, prima importanza perché aumenti i limiti delle fortitudine è possibile la produzione di nuove risorse ok, sto lavorando io per loro costruiamo qua, ok adesso chissà se posso costruire anche ok, così lavorano loro intanto io vado a trovare adesso aspettiamo che costruiscano ok, ho fatto il mio primo van posto ok qui c'è già qualcuno che attacca, chi è? chi è questo qua rosso che vedo? c'è un pallino rosso qui ah, sono i cattivi non ci danno fastidio poi nel momento lasciamo lì lì devo ritornare da lui ok, torniamo da lui vediamo cosa ci dice d'altro dobbiamo andare più avanti e costruirlo allora, credo ok, dobbiamo costruire che succede? la tua base è sotto attacco dove? qua? eh, sono questi qua sono allora ah, qui vediamo che se riusciamo a salvare gli uomini che lavorano da questo attacco di stiragni ho già capito che questi stiragni quali li devo sistemare tutti, mi sa ora lì dov'è? quanti ce ne sono? difendiamo gli uomini eh, ma siamo sotto non finiscono più sti ragni o scarafaggi quello che sono ah, ma ci stanno attaccando anche questi che sono? sono gli elfi ok, ce l'abbiamo fatta forse ok, andiamo allora anche qua dove sono questi qua? facciamo fuori anche questi così non se ne parla più facciamo fuori anche questi così forse è tranquillo ce ne sono un bel po' forza, forza oh, non ce n'è più? posso ritornare forse da dove cavolo è? da questo qua? ok allora, devo costruire capanni da allora, cava di pietra capanna da caccia torre di guardia alloggi allora, gli alloggi qua cava di pietra qua no qua ci sta qua vicino a questi qui? qua e poi alloggi cava di pietra torre di guardia torre di guardia e più avanti qua ok, costruiamo tutta sta roba qui allora, costruisci gli alloggiamenti costruisci la cava di pietra sto costruendo tutto ok ok qui a posto adesso questo è logico mi siamo messi ok, ci stanno lavorando questo questo è a posto dove è il nostro uomino qui ok allora, la fonte è morbo ingaggia alcune reclute devo fare le reclute qui adesso le reclute come funziona non mi ricordo più qui forse allora, l'alloggiamento l'abbiamo fatto devo fare le reclute cosa facciamo? recluta unità fanteria base incendiario ok, facciamo fare questo sta facendo facciamo il più che possiamo e un po' di queste ok e poi mettiamo il loro segno lo mettiamo qua ok quindi vengono tutti no, mettiamoli più avanti se no qui facciamo casino qua così li troviamo tutti quando poi sono pronti per combattere quindi mi conviene fare anche un altro alloggiamento cava di pietra non so quanti uomini avrò bisogno per poter entrare a combattere mi sarà meglio fare un altro alloggio magari facciamo un altro alloggio clicchiamo alloggio vediamo un po' dove lo posso fare qua ok poi cos'è capanno per la legna ne facciamo un altro qui capanno da caccia qua qua e cava di pietra anche mi serve dove la facciamo la cava di pietra dove trovo spazio qui l'ho già fatto qui l'ho già fatto qua non ci sta qui ne è anche qui forse ok e un'altra torre di guardia anche un po' più avanti torre di guardia va bene qui ecco metto gli uomini per combattere stanno sono lì aspettiamo che ce ne siano un po' ingaggio alcune reclutate almeno 3 di 4 ok allora fortifica il settore costruisci delle torri devo farne ancora ok si questo lo sappiamo sclicchi qua dove andate calma calma aspetta che costruiamo ancora una fortezza da qualche parte qui non so dove dove c'è spazio qua ok adesso possiamo andare a combattere possiamo andare a combattere non so fin dove posso andare a combattere adesso proviamo ad andare a combattere vediamo cosa succede parla con sentenza ah do parla con sentenza scusate do cavolo la sentenza qua 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 guerra 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 attacchiamo distruggiamo anche questa va fuori questo e facciamo fuori questo fuori anche questo ah intanto lo sta distruggendo questa credo ok si distrugge o non si distrugge eh quanto ci vuole per distruggere questa torre allora attacco in automatico quindi continuano a combattere andiamo a vedere qua qua posso costruire vediamo quanti uomini ho fatto qua intanto non tantissime clicchiamo qua facciamone ancora abbiamo bisogno di cacciatori qua aiutatelo se non muore forza ragazzi ok anche per questo secondo episodio direi che è tutto questa serie ovviamente non va bene per fare dei gameplay perché vedete è molto lunga quindi nel primo momento mi fermerò qua comunque avete visto come funziona il gioco è abbastanza divertente che è un classico strategico ho fatto vedere un po' le basi che ho scoperto anche io così e sembra abbastanza divertenti io ok vi saluto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale e buono youtube a tutti a tutti i